Amici di fan, appassionati della Lega Calcio A8, benvenuti al circolo sportivo Sport City, giornata numero 23 della Serie A della Lega Calcio A8. L'Eurobet Palermo ospita il Cotton Club, sfida rovente nella zona playoff per due squadre che quest'oggi hanno il solo obiettivo dei tre punti per riuscire a riscattare delle prestazioni non esaltanti e poco attente nelle ultime uscite. L'Eurobet Palermo con la classica divisa rosa, nero, schiera, Alessio Angelè, Andrea Angelè, Simone Caperchi, Stefano Carboni, Luca De Prai, Andrea Eusepi, Andrea Freddiani, Tiziano Galasso, Gino Galluzzi, Marco Garofolo, Daniele Mangiante, Federico Marcella, Roberto Natarucci, Mirko Sterbini e Andrea Tubani. Per quel che riguarda invece gli ospiti del Cotton Club, Matteo Amico, Federico Blandino, Mirko Forcina, Marco Giordano, Rocco Giordano, Cristiano Giuffrida, Davide Lefevre è squalificato quest'oggi. Ricordiamo Federico Mari, Roberto Mele, Fabrizio Nolano, Alessio Piccheri, Daniele Piro, Valerio Pucci, Simone Santarelli e Alessandro Zamperini. Tutto pronto per l'inizio del match, dicevamo due squadre che quest'oggi vogliono i tre e punti, infatti nelle ultime uscite la squadra di casa l'Eurobet Palermo che è attacchierata a destra verso sinistra, è rimasta sconfitta e ha avuto qualche piccola difficoltà in difesa. Invece per quel che riguarda il Cotton Club solamente nove punti nel girone di ritorno per una squadra che è impressionata molto nel girone di andata e aveva messo in parte paura anche battendo ovviamente il checco dello scapicollo. Squadra che però è tornata umana nelle ultime uscite, qualche ingenuità di troppo, qualche superficialità di troppo, sta accostando in questo momento qualche punto di classifica alla squadra di mister Flaviano Pina. Andiamo in cronaca diretta, il lancio sulla destra per il giocatore dell'Eurobet che viene atterrato, non c'è fallo secondo il direttore di gara, strilla la panchina dell'Eurobet, c'è stato un contrasto in questa situazione. Poi il lancio lungo dall'altra parte, viene atterrato Serbini che è andato a contrasto con l'attaccante dell'Eurobet che intanto continua a protestare Carboni. C'è subito qualche piccolo problema, partita attesa, partita molto importante per le due squadre, lo dicevamo e subito hanno tentato con dei lanci lunghi a tagliare le difese avversarie, a mettere in difficoltà la rispettiva avversaria. Adesso c'è il fallo, il primo fischiato in questa situazione, lo commette il numero 24 del Cotton Club Fabrizio Nolano che è andato a spingere l'avversario. Allora si ripartirà con il calcio di punizione per l'Eurobet che gioca subito, il pallone è corto, viene scambiato nella zona mediana del campo da parte dei rosa-nero. Poi il lancio lungo a cercare la testa di Alessio Angelè che viene ben chiuso però centralmente, poi un altro calcio di punizione, questa volta a commettere il fallo. Il giocatore con la maglia numero 7 del Cotton Club, Daniele Piro, giocata subito, adesso ancora una volta la punizione, provano a sorprendere i giocatori del Cotton, i patroni di casa. Ora manca lo stop sul campo scivoloso quest'oggi, reso dall'umidità. Nonostante abbiamo inoltrato ormai la primavera, si ripartirà con la rimessa laterale per il Cotton Club, mentre il direttore di gara si accerta che il pallone sia gonfio. Viene effettuato un cambio, arriva la palla sostitutiva e ora si riprende il gioco. Ricordiamo 0-0 il risultato qui allo Sport City tra Eurobet Palermo e Cotton Club. Rimessa laterale per il Cotton da sinistra, lanciata a lunga a cercare l'appoggio da parte di Zamperini. C'è un fallo, adesso il primo fischiato all'Eurobet Palermo. Chiede scusa il giocatore che lo ha commesso, ovvero Tiziano Galassi. E quindi il calcio di punizione è battuto, perde il pallone il Cotton Club. Borangelet stoppa, viene contrastato dagli avversari, recupera la palla l'Eurobet Palermo. Buona questa transizione difensiva da parte dell'attaccante del Cotton che prova la conclusione dalla destra. Il tiro però si spegne, abbonatamente fuori. Ci ha provato Forcina, il match winner nella partita con il che con lo scapicò. Allora va a staccare altissimo il giocatore del Cotton Club con la maglia numero vettura, ovvero Alessandro Zamperini. Che da centrale difensivo dovrà contrastare un altro giocatore molto fisico come Alessio Angelè. E occhio ai suoi tiri da fuori, quasi sempre letali. Ora Sterbini in chiusura difensiva. Il lancio lungo da parte del portiere dell'Eurobet Palermo. Ci mette il petto Zamperini, palla indietro per Santarelli che lancia a lungo. A cercare nuovamente Mirko Forcina che lotta con Sterbini con questo il pallone. Ma c'è un calcio di punizione a favore del Cotton Club. Da posizione molto interessante. Sterbini protesta nei confronti dell'attaccante del Cotton, Mirko Forcina. Sta di fatto che c'è questo calcio di punizione della tre quarti del fronte d'attacco offensivo del Cotton Club. Zona centrale del campo. Mentre saluto anche Michele Scadarsi che è di supporto come commetto tecnico. Ciao Michele, partita molto importante quest'oggi. Partita importantissima, ti lascio subito la linea perché da qui è una posizione pericolosa con Nolano alla battuta. E dunque Nolano con il destro. È pronto a caricare. Abbiamo poi anche una soluzione mancina da parte del Cotton di Daniele Piro. Tre uomini in barriera. L'ultimo è Angelè. Andrà però Nolano col destro. Va la battuta Nolano. Proprio Angelè tocca con la gamba. E c'è una rimessa laterale per il Cotton Club. Giocata in questo momento. Palla al centro. Va a spiovere dentro l'area di Rigoli. Colpo di testa da parte dell'attenta difesa quest'oggi dell'Eurobet Palermo. Natalucci è andato a contrastare l'attaccante avversario. Parlavamo di difesa. Quanto è importante quest'oggi per l'Eurobet cercare una prestazione solita al punto di satisfezione. Mentre tanto torniamo in cronaca diretta con l'Eurobet che attacca sulla sinistra. Zamperini come al solito. Anzi scusate Forcina in ripiegamento difensivo. Dicevamo quanto è importante oggi per l'Eurobet cercare di non subire tanti gol. È fondamentale anche se manca le fevre per la lunga squalifica. Forcina è un attaccante molto pericoloso. Il piattone alto da calcio d'angolo. Buona opportunità per l'Eurobet. Andrea Eusepi ha colpito male il pallone. Colpo di testa a liberare la difesa dell'Eurobet Palermo. Zamperini poi ha preso la sinistra. Cambio di gioco sulla destra. Favorire Matteo Amico che poi dà il centro. Palla filtrante. Prende posizione nella lotta che si è stabilita nella zona centrale del campo della difesa dell'Eurobet Palermo. Questa volta Sterbini subisce il fallo. Sarà un duello molto interessante tra Forcina e Sterbini. Sicuramente il duello chiave della serata a meno nella metà campo difensiva dell'Eurobet Palermo. Il Cotton ritrova dopo il turno di squalifica il suo asse centrale con Zamperini e Nolano che hanno scontato la squalifica. Abbiamo già detto che Fevere invece è lontano da scontare questa squalifica. Forcina di davanti non lo farà rimpiangere. Secondo me la chiave del match sarà sicuramente Piro che agisce proprio sotto la nostra postazione. Che diceva adesso con i suoi strappi può creare i problemi alla difesa dell'Eurobet Palermo. I problemi che possono essere decisivi al fine della realizzazione del Cotton Club. Raddoppio interessante proprio su Piro, l'abbiamo visto. Viene spazzato poi il pallone dall'Eurobet, il lancio a lungo di Zamperini. Il colpo di petto all'indietro di Garofalo. Bravissimo a antecettare il pallone, il portiere dell'Eurobet che può rigiocarla. Adesso lunga a cercare Alessio Angelè che lotta in mezzo a due maglie avversari. Bravissimo Zamperini con la sua esperienza a toccare con la testa a Dario Santarelli che poi gioca sulla sinistra. Ma il pressing dell'Eurobet si fa molto interessato e Zamperini in difficoltà. Apre poi sulla destra molto bene il pallone per Amico. Amico cerca riferimenti dall'altra parte del campo, li trova lo stop perfetto di coscia. Poi il colpo di testa a cercare di chiudere, Piro cambia fascia di competenza. Pina gli ha cambiato la posizione, ha visto subito su di lui il raddoppio. Ora Amico. Zamperini. Cotton in possesso del pallone, sembra essere questo il tema del match. Con la robetta che attende, Zamperini lancio lungo, Serbini bravissimo ad uscire con il colpo di testa. Poi un colpo di tacco. Il lancio a lungo a cercare il perfetto inserimento. Manca la conclusione nella zona centrale del campo. L'Eurobet del Palermo. Santarelli sembrava uscito con i tempi non perfetti. Un eventuale tocco l'avrebbe scavalcato. Ora il lancio a lungo a cercare nuovamente il frotto d'attacco del Cotton. Ma Sterbini esce paro al piede molto bene. Si cercava una prestazione difensiva interessante dell'Eurobet. E fino a questo momento la squadra rosa-nero è stata perfetta. Ancora Sterbini perde questa volta palla con Forcina. Esagera, chiede un po' troppo le sue qualità dal punto di vista tecnico. Ma l'Eurobet attacca Angelè. Il pallone è fuori misura verso di lui. Ed era molto interessante questa soluzione. Tema tattico ormai chiaro. Il Cotton fa possesso. L'Eurobet si difende molto bene. Riparte. Adesso contatto. Ancora limite dell'aria. Non fischia l'arbitro. Adesso può ripartire ancora una volta l'Eurobet. con Aturbani e Angelè sempre molto avanzati. A supporto Galassi. Dietro può sempre dargli una mano. Abbiamo visto ancora il duello bellissimo tra Forcina e Sterbini. Tanta esperienza per i due giocatori. Ancora Forcina. Bello lo scambio. Questa volta con Piro che potrebbe aprire sulla sinistra. Non lo fa. Se la porta sul destro Piro. Piro carica il destro. Poi sceglie nuovamente Forcina che si gira. Nel mezzo a tre maie. Intervento pulito. Della difesa dell'Eurobet che prova la ripartezza con Angelè. Centrale. Lo scambio. Zamperini esce. E' costretto a far fallo. A intercettare il pallone. Ancora Zampe. Va verso l'avversario. Non riesce a prendere però il giro palla creato da Galassi. Lancia lungo a cercare. Angelè che stoppa con la coscia. Palla all'indietro. La conclusione della distanza. Santarelli si distende. Prima importante occasione per l'Eurobet. Perfetto Santarelli. Diciamo che rispetto alla gara di andata. C'è Santarelli in porta e non Pinotti per il Cotton Club. Con Tubani che ancora dà gli incubi al duo Pinna Giuseppucci. Questa sera però sarà più difficile per lui. Calcio d'angolo per l'Eurobet. Battuto in questo momento a cambiare il gioco. La conclusione di sinistro si oppone. Però l'attaccante del Cotton con la maglia numero 9. Che ora va a prestare subito Sterbini. Non riesce. Intercetto del portiere che può giocarla ancora verso Mirko Sterbini. Garofolo, Sterbini. I due scambiano. Ora Sterbini rischia di perdere il pallone. Ci vanno a mettere in testa. E conquista. Un calcio di punizione molto interessante. L'hai detto Michele. È un match che propone questo duello. In particolar modo ricordiamo Forcina. Match winner nella partita. Con il Checco. E l'hanno studiato bene i giocatori dell'Eurobet. Che ora provano ad attaccare dall'altra parte. Invece l'altro duello è tra Angelè e Zamperini. Per il momento vincono entrambi i difensori. 0-0 con il Cotton che attacca. Galassi. Lancio lungo di Galassi. A cercare Angelè. Non sono queste le qualità ovviamente di Angelè. Ma l'Eurobet è costretta a questi lunghi lanci. Forse il centrocampo non è tanto di supporto in fase di impostazione. Lo è molto però in fase di ripiegamento difensivo. Assolutamente. È una squadra molto chiusa. Forse sta mancando di compattezza nelle parti in fase di transizione offensiva. Però in fase di ripiegamento invece sono stati perfetti di sino ad ora. Adesso qualche patema d'animo. Palla che arriva direttamente al nostro buon Antonello Carbonaro. Si salva. Il nostro orello sarà rimesso laterale. Amico. Esce palla al piede. Prova a creare lo strappo lui. Poi cerca il palone sotto le gambe di Galassi. Cercava Forcina. Garofolo. Verso Angelè. Zamperini. Mette via. E oggi pochi preziosismi. Solo i punti per queste due squadre che fino a questo momento non stanno giocando una partita interessante dal punto di vista tecnico. Si però dal punto di vista tattico. Sono due squadre non molto in salute. Il Cotton ha trovato la vittoria dopo aver perso proprio su questo campo contro il Bliss Euro. Una sconfitta davvero inaspettata per la squadra di Mr. Pinna. L'Eurobet viene da due sconfitte consecutive. Deve difendere il quarto posto che non è più così sicuro perché le squadre dietro si sono avvicinate. Ovviamente il Cotton invece si deve avvicinare alla testa della classifica. Galassi apre sulla destra la chiusura. Difensiva e c'è quindi rimessa laterale per l'Eurobet. Al centro dell'area c'è solo Alessio Angelè. Bello strappo di Dubani che prova a mettere in mezzo il pallone. Non riesce poi alla conclusione tentata dalla distanza da parte di Andrea Eusepi. Amico il lancio lungo questa volta sembrava in anticipo Forcina. Infatti controlla il pallone in mezzo ad avversari. La palla poi è per Piro Sterbini. Bravissima a tornare sull'avversario. Poi Eusepi perde il pallone con Piro che lo riconquista. Attacca con il Cotton il tiro dalla distanza. Da parte di Giordano termina abbondantemente alto rispetto alla porta del portiere. Dei Rosa Nero si rimane sullo 0-0. E ora che cosa possono cambiare i due allenatori? È difficile da dire. Al momento il Cotton sta facendo la partita ma manca forse di supporto a Forcina. Si trova soltanto con i lanci lunghi. Adesso prova. Palla in capo. Infatti Angelè riesce a riconquistare a Zamperini. È costretto a commettere fallo e a prendersi il cartellino giallo. Leggerezza di Zamperini che ha visto il pallone fuori. Stop perfetto e invidiabile da parte di Alessio Angelè che se n'era andato. Poi Zamperini non poteva fare altro che abbatterlo. È stato bravo ad abbatterlo fuori dall'area. E comunque ci ha andato molto vicino alla linea dell'area di Santarelli. Bisogna dire anche che Zamperini in questo campo forse ultimamente ha qualche passaggio a vuoto di troppo. Perché anche col Blisseur ha creato più di un problema alla sua porta. E anche in questa situazione poteva essere più a corto. Calcio di punizione fronte destro d'attacco del campo dell'Eurobet Palermo. Siamo più o meno nei pressi dello spigolo dell'area di rigore. Due le soluzioni. Ma occhio al destro di Angelè da quella posizione. Ha fatto male spesso alla C-10 ad esempio. Va proprio Angelè la conclusione. Cerca di superare la barriera con una conclusione bassa. Galassi. Lascia a Tubani. Tubani per Angelè. Controlla Angelè. La sponda all'indietro per Andrea Eusepi. A scavare Eusepi per Angelè che stoppa. Mette in mezzo il pallone. Zamperini fa buona guardia. Diciamo che l'Eurobet non ha molto da cambiare. Sta facendo sicuramente quello che aveva pianificato negli spogliatoi. Ci si chiude bene e poi si riparte. Quando si attacca a metà campo comunque si orchestra bene la manova di attacco. Per quanto riguarda il Cotton che questa sera è abbastanza munito. Ci può essere qualche cambio. Colpo di testa a liberare di Amico. Poi intercetta Santarelli prima che il pallone esca. Non la rigioca rapidamente però il portiere del Cotton Club. Ripiega nuovamente l'Eurobet Palermo. Il lancio lungo poi a cercare Giordano. Bravo Sterbini. Poi Amico. Zamperini. Si girano l'ano. E da per forcina che finalmente si è staccato dalla marcatura di Mirko Sterbini. Ha arretrato di qualche metro il suo raggio d'azione per evitare una marcatura che per il momento lo sta annullando dal punto di vista offensivo. Zamperini. Col sinistro guarda i compagni e poi decide di andare da Amico. Nolano. Cerca Forcina. Forcina prova a girarsi. Forcina resiste Serbini. Ancora Forcina. All'indietro il pallone. Galassi a chiudere. Poi Nolano. Nolano prova col sinistra. Non è il suo piede. Cerca il tocco di tacco. Giordano sottoporta. Non si fa ingannare il portiere dell'Eurobet. Questa se vogliamo è la prima vera grossa occasione del Cotton Club. Angelè. Eusepi. Galassi. Va Forcina a pressarlo. Quindi Garofolo. Bravo Garofolo con il movimento del corpo a statale due avversari ad andare via sulla sinistra. Torna però su di lui Piro. E c'è il primo time out chiamato dalle due squadre. Michele allora che cosa veramente può cambiare questa partita che per il momento rimane sullo 0-0. Uno 0-0 giusto. Sì il risultato al momento rispecchia quanto visto in campo. Possiamo dire che il fattore inusuale della gara è sicuramente la panchina lunga del Cotton Club. Che quindi ha iniziato con questi otto e sicuramente farà ruotare molto i giocatori. C'era il dubbio a inizio partita nei giorni prima della partita tra Blandino e Nolano. Alla fine PIN ha optato per quest'ultimo. Ma Blandino ha fatto molto bene nella partita contro i Pumas. Adesso dalla panchina possono entrare i vari piccheri in difesa. E sicuramente Rocco Giordano e Giuffrida in attacco. E possono dare magari quell'imprevedibilità che al momento Piro non è riuscito molto a dare. Vediamo se è soltanto una scelta di non affondare più di tanto il colpo. Oppure diciamo che Piro questa sera ancora non è riuscito a ingranare. Abbiamo visto un Piro devastante per esempio contro il footballerito al Donorione. Questa sera meno. Vediamo quali saranno i cambi. Ricordiamo che Mr. Pinnata quando non ha Fernetti i due cervelli della squadra, le due persone che in campo fanno le veci del mister sono Marco Giordano e Alessio Piccheri. Vedremo se ci sarà l'occasione di schierarli entrambi in campo contemporaneamente oppure se si alterneranno sul terreno di gioco. Mi pare di vedere Federico Blandino e Roberto Mele i prescelti di Pinna per cambiare il match in questo time out. Dall'altra parte invece avevo intravisto Gino Galluzzi. E così si abbassa Angelè e Galluzzi va a fare il pivò o la punta. Ha caratteristiche simili Galluzzi ad Angelè. è molto più bravo però spalla la porta il numero 99. Riprende il match proprio Galluzzi, spalla la porta, la stoppa, lo fanno girare. Occhio a Galluzzi, provano ad andare via in mezzo a tre avversari. Galluzzi, Galluzzi! La conclusione! Santarelli respinge con i pugni, poi Mele prova a portare via il pallone. La gioca, la riconquista ancora l'Eurobet che ora prova ad attaccare con un nuovo pio dopo il time out. Galassi cerca e trova Angelè, Angelè scambia con Galluzzi. Intercetta Zamperini che prova ad uscire palla al piede. Accelera il Cotto Club con Piro. Forcina chiede il pallone, Piro invece si ferma. Ancora Piro prova la conclusione smorsata. La palla poi giunge al centro. Galassi ci mette la testa. La palla arriva nuovamente a Nolano che prova la conclusione della distanza. Un tocco di mano in volontario di Galassi. Calcio d'angolo. Interessante la soluzione di Blandino in campo insieme a Nolano. Più o meno il ruolo nel calciotto è lo stesso. Forse Blandino questa sera fa le veci di Fernetti. Nolano è il più grande orfano di Fernetti. Gli dava tutta quella copertura difensiva nel quale non eccelle il numero 24. Ovviamente si poteva concentrare nella metà campo offensiva. La doppietta all'andata lo dimostra. Calcio d'angolo per il Cotton Club. Da destra viene battuto in questo momento. È troppo lungo però per tutti. La palla esce fuori. Zamperini si arrabbia e molto con il compagno che doveva mettere una palla tesa. Invece ha cercato una palla a campanile che non ha sortito buon effetto. E allora Andrea Eusepi, l'ex Venere Michini, cerca il lancio lungo decisamente fuori misura verso Garofolo. Chiede scusa il numero 4. La palla esce, la rimessa laterale per il Cotton Club. E si alza l'Aerobet Palermo che vuole pressare l'avversaria. Nolano spazza via il pallone, cerca Forcina, il colpo di testa di Eusepi. La palla esce fuori. Altra rimessa laterale per il Cotton Club che ora è leggermente in difficoltà paradossalmente dopo il time out. Sì, ha accusato forse anche l'ingresso di Gino Galluzzi che sta dando una diversa consistenza offensiva alla manovra dell'Aerobet. Si è visto anche prima. Eusepi cerca lo scambio rapido. Angelè però andava ad accorciare e quindi Mele può raccogliere questo pallone lungo e darlo a Santarelli che ha preso la destra per amico. Cerca riferimenti laterali. Li trova in Piro che protegge il pallone e va via Garofolo. Bravissimo Galassi a chiudere e a dare il 5 poi all'avversario. Rimessa laterale per il Cotton Club con un amico che gioca centralmente per nonalo. Galluzzi fa buona guardia da per Andrea Eusepi. Deve rallentare la manovra l'Aerobet che tarda in questa situazione a salire. Angelè cerca Galluzzi. Non lo trova e quindi Nolano nella cabina di regia a dare a Piro. Piro cerca Forcina, colpisce di testa Forcina, cercava Blandino. Era perfetto il movimento d'attacco dei due giocatori. Fuori misura però il passaggio di testa di Forcina che aveva superato in questa situazione. Sterbini continua ad attaccare il Cotton con Nolano che cerca ancora Forcina. Ancora Sterbini. La palla verso Eusepi. Un 3 contro 3 creato dall'Aerobet e Eusepi può aprire per Angelè. Va col destro per Galluzzi. Potrebbe rientrare Gino Galluzzi e invece va sul sinistro e Zamperini lo chiude. Con uno scontro molto fisico anche in questa situazione. I direttori di gara fanno molto giocare. La partita è molto più bella così. Finora tutto molto bene sia le squadre in campo che l'arbitraggio. Nulla da eccepire. Hanno visto Sterbini quanto è fisico da una parte. Zamperini quanto è fisico dall'altra. Giustamente finché non c'era la necessità non si fischia. Entrato anche Cristiano Giuffrida. Ora Eusepi. Prova il destro Eusepi. Ma questo è un miracolo di Santarelli. Anzi no il pallone è uscito. E ci è andata davvero vicina l'Aerobet con il destro di Eusepi. Sul secondo palo mi pare di aver visto uno tra Galluzzi e Angelè. Hanno mancato di un centimetro il palo e di un centimetro. Li le tocco decisivo con Santarelli sulla traiettoria ma apparentemente battuto. Cotton un po' scosso. Blandino. Cambio di gioco a cercare. Nolano il pallonetto a cercare. Blandino. Bravo. Sterbini. Poi Garofalo. Quindi Galassi. Però ad uscire Galassi si conquista un bel calcio di punizione. Due i cambi per il Cotton Club. È entrato Giuffrida con il numero 11 in posizione di pivot. E Federico Mari invece a dare manforte sulla fascia destra al posto di Piro. Se non vado errato. Eusepi. Galassi. Andrea Eusepi. Galassi. Sterbini. Si sgancia Sterbini. È la prima volta nella partita. Poi va a riprendersi la sua posizione di ultimo uomo. Eusepi. Gira bene per Galassi. Ha dato spazio di numero 10. Galassi pensa il tiro. Va invece col pallonetto in servizio verso Angelè. La palla esce. Qui ha sbagliato Mari perché il Cotton era alto in pressing sul lato sinistro. In fronte all'attacco appunto dei rossoneri. Si è ribaltato sul lato sinistro invece l'attacco dell'Eurobet Palermo. E Mari era qualche metro indietro. Ha lasciato spazio per il tiro. Il tiro è andato a buon fine però quando si pressa. Prima regola farlo tutti insieme. Zamperini. Scambio corto. Colpo di testa ancora. Della difesa dell'Eurobet. Perfetta sulle palle alte. Galluzzi. Si fa anticipare da Zamperini. Mele ci mette una pezza sul pallone che era carambolato verso... Angele. E allora Blandino. Amico. Blandino. Ancora Amico. Guadagna campo. Il Cotton che va in tush. Rimessa laterale per gli ospiti. Andrà proprio Andrea. Amico. Blandino si abbassa. La palla verso Giuffrida. Che colpisce un avversario secondo il direttore di gara. Calcio di punizione a favore dell'Eurobet Palermo. Mister Pina si è lamentato perché vede tutti i giocatori che si muovono soltanto col pallone tra i piedi e mai senza palla. Tocca dire che ha levato forse l'unico giocatore della sua rosa che ama invece andare incontro al pallone. Muoversi incontro al pallone che appunto è Mirko Forcina. Fa un lavoro diverso rispetto a quello di Lefebvre che pure lì davanti quando c'è vuole avere palla sul petto o sui piedi e tenere la spalla alla porta. Quindi senza Forcina forse c'è bisogno di un po' più di movimento. Ha ragione Mister Pina a arrabbiarsi con i suoi. Dici bene Michele ma fino a questo momento è pur vero che Sterbini ha fatto una partita francamente perfetta come 4 o 5 anni fa ce lo ricordavamo. Ha annullato un giocatore davvero incredibile come Forcina. Il Cotton manovra difensivamente con Mele. Quasi alla cieca Mele è costretto a cambiare gioco verso Mari. E l'ora amico da per Blandino. Blandino cambia passo in seguito da Gino Galluzzi. C'è un fallo evidente di Gino Galluzzi che chiede scusa all'avversario. Chiedono il cartellino giallo dalla panchina. Fase ferma del match con Zamperini che è pronto a giocare il pallone verso Blandino. Euseppi fronteggia l'avversario lancio lungo poi a cercare nuovamente la terra di nessuno ovvero quella che oggi è la terra di Sterbini. La difesa dell'Eurobet perfetta fino a questo momento. Galluzzi conquista la rimessa laterale. La palla è per l'Eurobet Palermo. Garofolo. La palla è uscita e la rimessa laterale per il Cotton Club. Dopo 15 minuti di sportellate è stato tolto Forcina e adesso c'è Giuffrida lì davanti. Non si danno più punti di riferimento a Sterbini. Si vuole farlo correre. Forse la soluzione è giusta. Al momento non ha ancora sortito gli effetti sperati. Però magari sul tempo si può stancare il fortissimo centrale di difesa dell'Eurobet Palermo. Al momento man of the bench. Fase un po' confusa della partita con le due squadre che sbagliano molto come in questo caso Blandino. Dall'altra parte invece c'è il fallo. Anzi no. Viene fischiato. Tutto è pronto perché ricominci il match tra Eurobet Palermo e Cotton Club. La ventitoresima giornata di Serie A della Lega Calcio a 8. Si riparte dallo 0 a 0 ma durato nel primo tempo si riparte dalla centrata di Andrea Usepi che prova la conclusione. Centra la porta ma ci vuole ben altro per battere un portiere come Santarelli che gioca poi per Mele il pallone. Zamperini apre sulla destra per Amico. Tanti minuti per il numero 44. Poi cerca lungo Giuffrida. La rimessa laterale esce Sterbini come al solito in maniera perfetta poi perde il pallone. È il primo della partita. Amico. Circa Giuffrida che non stoppa. E la rimessa dal fondo è per l'Eurobet Palermo. Stesso tema del primo tempo in questi primi 30 secondi. Siamo comunque al cospetto dei migliori interpreti nel ruolo di centrale difensivo questa sera. Sterbini da una parte e Zamperini dall'altra. Due fenomeni di eleganza anche negli interventi. Mai irruenti. Sempre precisi. E quando fanno fallo è per farlo e non perché gli è capitato. Davvero eleganza a non finire per entrambi. Zamperini sbaglia l'appoggio difensivo proprio come Sterbini. Partita in fotocopia. Rimessa laterale per l'Eurobet Palermo con Eusepi che prova la conclusione. Chiude troppo il destro. Interessante. La scelta di Andrea Eusepi. Parla che finisce più o meno fuori di un metro rispetto al palo destro di Santarelli che poi lancia lungo ma trova solamente Galassi. Non può far altro che dare il pallone ad Amico. Male per Blandino che la domestica di testa poi dà per Zamperini. Ancora Amico. Si stacca Giuffrida che non è riuscito ancora a toccare un pallone interessante. Mele poi punta uno dei giocatori più rapidi della Lega Calcio 8. Ovvero Tubani. E non riesce a saltarlo. Tubani un vero e proprio crack nell'inizio di questo campionato. Poi una piccola discesa del numero 7. Ora Giuffrida conquista il pallone ma neanche a dire il numero 6. Mirko Sterbini gliela porta via. Cotton che rimane in fase di pressing. Non riesce però ad impostare in maniera pulita la palla persa. Sterbini ancora una volta sull'avversario. Poi Tubani prova a creare il break. La perde nuovamente e la riconquista ancora il Cotton. Torna poi Tubani. La palla messa in mezzo. Giuffrida non intercetta. Eusepi all'indietro per Carboni. Che non riesce a liberare. Carboni poi è costretto a spazzar via il pallone. Troppo bassa l'Eurobet. Il Cotton guadagna il campo. Addirittura dietro la mediana. L'Eurobet che ora si alza con Eusepi. Blandino. Giordano. L'1-2 cercato con Eusepi. Strette le maglie dell'Eurobet. Che mettono in forte difficoltà il Cotton. Galassi. Sterbini. Con pazienza l'Eurobet. Prova a giocare il pallone. Giuffrida si oppone. E' rimessa a laterale per l'Eurobet Palermo. Rimane comunque alto il Cotton Club. Che va a staccare con Blandino. Poi Tubani. Tubani prende velocità. La palla sulla sinistra. A cercare. Stefano Carboni. Palla persa. E allora Blandino. Fa molto movimento Giordano. Giuffrida. Carboni. Fa scorrere fuori la palla. E' rimessa per l'Eurobet. Eusepi si fa vedere la palla. E' però per Galluzzi. Che di testa prova a dare ad Eusepi. Zamperini esce palla al piede. Col sinistro il capitano del Cotton. Giordano. Punta Tubani. Il tocco c'è. L'abbiamo sentito. Calcio di punizione per il Cotton. Soluzioni da fermo interessanti. Michele. In una partita decisamente bloccata. Sì. Entrambe le squadre sono molto fisiche. Quindi in area c'è da lottare. Le torri potrebbero salire. Ma invece il Cotton preferisce giocare palla a terra. Bello questo dribbling. C'è un altro fallo. Anzi no. Secondo il direttore di gara. Con Tubani che prova a saltare l'avversario. Lo fronteggia amico. Ancora Tubani. Vince il ripallo da per Gino Galluzzi. Che fa tutto da solo. Galluzzi. Con la sua ola Galluzzi. La tiene Gino Galluzzi. Poi il tocco è corto. E quindi Giordano prende velocità. E salta agli avversari. Giordano la scivolata di Galassi. E' perfetta e corretta. Poi Sterbini. Qualche folata la stiamo intravedendo. Ma ancora una volta la meglio la difesa. Mirko Sterbini. Andrea Eusepi. Eurobet che cerca il varco giusto. Adesso guadagna campo con Galluzzi. Che prova ad arrivare su un pallone non destinato a lui. Ci mette la gamba a mele e copre la sfera. Che arriva Zamperini. E poi per amico. E' da solo Galluzzi a fare pressione. E infatti può girarla tranquillamente. Verso mele Zamperini. Giordano. Col sinistra a cercare. Giuffrida che prende posizione. E c'è calcio di punizione. Per l'Eurobet Palermo. Giuffrida protesta. Il numero 6. Dell'Eurobet sta facendo una partita perfetta. E magari anche quando la decisione diciamo può essere a metà. E' chiaro che l'esperienza di uno come Sterbini ha sempre la meglio. Più che altro forse viene premiato per tutti i strepitosi interventi che ha fatto finora. Questo era un contatto al limite. Palla contesa, palla alla difesa. Conclusione. Decisamente veleitaria da parte del giocatore del Cotton Club. con la maglia numero 90, ovvero Federico Mari. Eurobet che gioca adesso la palla sulla destra. Eusepi. Duetta col compagno Galluzzi. Zamperini è perfetto. Poi Angelè. Carboni. Chiuso Carboni da Mari. La rimessa laterale per il Cotton Club. Viomen in maglia nera con Amico che gioca rapidamente per Blandino. Prova ad accelerare i ritmi della squadra di Pinna. Blandino il tocco d'esterno. Giuffrida viene chiuso da Sterbini. Solo palla. Secondo il direttore di gara. Quindi Tubani prende velocità. Risalta tutti i Tubani. Tuccona Tubani viene chiuso. Era solo Tubani. Giordano dall'altra parte. La porta col sinistro. Non ha compagni da servire. Poi sì con Blandino che arriva. Blandino conclude col portiere fuori dai pari. La palla finisce fuori. E c'è anche il leggialo intanto per Tubani. Che si lamenta nel contatto precedente. A mio modo di vedere. Anzi per Meile scusate. Questa era una grossa occasione per il Cotton Club. Anche perché mi era parso di vedere Blandino ormai di fronte al portiere. Ha preferito la soluzione di potenza non guardando. In realtà il numero uno rosa nero che era uscito. Tanti minuti in panchina per Nolano. Blandino sta facendo bene. Si è ritagliato questa bella occasione. Diciamo che ha inquadrato bene il tiro. Non ha guardato la porta. Ha preferito calciare più di potenza che altro. È andato impreciso. Forse Nolano lì avrebbe fatto meglio. Galluzzi cercato dai compagni. Non riesce nell'appoggio verso Tubani. Che alza il suo raggio d'azione. Lo vediamo molto più vicino a Gino Galluzzi. Che è bravo a servire a spalla la porta agli compagni. Il colpo di testa a cercare proprio Tubani. Poi Forcina. Che ha riposato. Apre bene sulla destra. Sfera che arriva. Quindi a Giuffrida che cerca l'1-2 con il colpagno. Carboni. Spazza via per non rischiare. Sulla destra adesso c'è Valerio Pucci. Che esordisce nel match. Con le mani per Giuffrida. Che salta l'avversario. Mette in mezzo. Forcina. La mette forse fuori. La tocca comunque il portiere dell'Aerobet. Palla che arriva nel capo con Forcina e Tubani. Che lottano. Se ne va via con un numero di prestigio. Tubani. Che poi inciappa sul pallone. Quindi Amico. Porta la sfera. Potrebbe aprire per Forcina. Da invece per Giordano. Che carica il sinistro. Giordano viene murato. La palla arriva nel capo con Galluzzi. Che prova a portarla via all'avversario. Galluzzi. Resiste ancora. Galluzzi. Prova a saltare Zapperini. Ma c'è un fallo precedente di Amico. Che trattene l'avversario. Vantaggio non concretizzato. Ineccepibile fischio del direttore di gara. Aspettato che si concretizzasse il vantaggio. Così non è stato. Punizione per l'Aerobet. Dall'altra parte Forcina. Che occasione. Angelè. Conclude Angelè. Con la deviazione. Super Santarelli. Il Cotton riparte. Il lancio lungo. Carboni sbaglia lo stop di Petto. Poi inciampa sul pallone anche il difensore dei Rosanero. Euseppi poi prova un cambio gioco. Non trovando nessuno. Quindi Zapperini con la suola. E con Magistrale Calma. Ancora Zapperini. Non pressa l'Aerobet. Galluzzi lascia qualche metro agli avversari. Il lancio lungo a cercare Forcina. C'è forse un fallo di Sterbini. Questa volta è così. Il direttore di gara si avvicina a Mirko Sterbini. Chiedono il cartellino giallo dalla panchina del Cotton Club. Perché sanno che Mirko Sterbini a Monito sarebbe un bel problema per l'Aerobet. Assolutamente. Si può anche concedere delle licenze poetiche per così dire Mirko Sterbini. Potendo contare anche poi sulla scappadoia del giallo. Il momento in cui venisse a Monito dovrebbe anche poi contenere i propri interventi. È rientrato Forcina. Quindi sportellate da qui alla fine. Due giocatori sul punto di battuta del Cotton Club. Giordano e Zamperini. Sembra però essere Giordano a dover concludere. Quattro uomini in barriera. Va Giordano. Centra proprio la barriera. Zamperini. Con il Cotton che rimane in avanti. La palla è lunga. Il colpo di testa. Eusepi. Tubani. Con il suo solito sombrero. Questa volta c'è il fallo di Giuffrida. In tandem con Blandino. Poi la palla per Andrea Eusepi. Che da sulla sinistra per Carboni. Angelè si riporta in posizione avanzata. Il lancio verso di lui. Il colpo di testa a liberare da parte di Pucci. Poi Angelè. Fa scorrere fuori la sfera. E quindi la gioca verso Andrea Eusepi. Occhio al suo destro. Infatti lo vanno subito a chiudere. Apre molto bene però. Sulla destra. Riparte però il Cotton con Giordano che salta l'avversario. E Tubani. Giordano si accentra. Tubani torna su di lui. Ancora Giordano. È tutto sinistro. E infatti la tocca sempre con la mancino per il compagno. Che è Giuffrida. Che prova a destreggiarsi in mezzo ai due avversari. C'è un calcione di Carboni. Cartellino giallo. Credo per il numero 14. Anzi no. Solamente e fallo. Giordano sicuramente il migliore dei cambi di pinna. Sta dando quell'imprevedibilità di cui aveva bisogno il Cotton. Taglia bene il campo. Se ha 5 metri è imprendibile per tutti quanti. Anche qui questa punizione è stata conquistata da Giuffrida. Ma tre quarti dell'azione è di Giordano. E adesso corner corto per il Cotton Club. Corner corto. Più o meno di un metro rispetto alla normale posizione. Della bandierina. Sempre Giordano con il sinistro a battere. Sono quattro gli uomini del Cotton in area di rigore. Si tratta di Giuffrida, Zamperini, Forcina e Amico. La battuta lunga è proprio per Amico che può rimetterne in mezzo. Invece la stoppa. Amico conclude. Grandissima risposta. Poi Giordano viene murato. E adesso il Cotton ci crede e si rende molto più pericoloso di una rubetta che rischia qualcosa in più. Blandino il lancio lungo a cercare il colpo di testa di Giuffrida che in area di rigore non trova nessuno. Poi la palla lunga a cercare Angelè che prova a dare respiro ai suoi Zamperini. Gli porta via il pallone adà per Blandino. Quindi Giordano in alcio lungo di sinistro a cercare Giuffrida. Palla che arriva a Blandino. Blandino. Blandino conclude la deviazione. E la palla esce. Sembrava che il rimbalzo portasse il pallone in porta. In realtà è uscito Michele. Davvero incredibile. Tutti quanti si aspettavano il rimbalzo a rientrare. Invece la palla toccata al suolo si è adagiata dolcemente al lato del palo. Giordano può mettere in mezzo il pallone. Il Cotton attacca a sprono e battuto. Solo un uomo a difendere la metà campo. Anche se nella metà campo avversaria si tratta di Blandino. Palla messa in mezzo. C'è un contatto. Ed è fallo in attacco del Cotton Club di Mirko Forcina. Che si lamenta. Si rimane sullo 0-0. Intanto viene allontanato dal campo Giuseppucci. Che ha detto qualcosa al direttore di gara. Time out. In tanto chiamato. È durato più del dovuto il time out. Tante proteste della panchina del Cotton che ha perso Pinna. Mi correggo e non Giuseppucci. Allontanato l'allenatore del Cotton Club. Un giallo anche per Santarelli. Per proteste nei confronti della direttore di gara. L'episodio è sempre quel calcio di rigore reclamato dal Cotton Club. In un'azione parecchio confusa in realtà Michele. In area di rigore. Il Cotton adesso continua ad attaccare. Era un momento molto favorevole per il Cotton Club. Fino al momento del time out. E allora la roba è avuto modo di riorganizzare un po' le idee. Sì poi in marcia scibile il presidente Cencetti che evita che i suoi giocatori vadano a parlare con gli arbitri. Gli ne va dato atto di arrivare conosciuta comunque questa sportività e questo rispetto nei confronti della classe arbitrale. Per quanto riguarda l'episodio precedente classico fallo di confusione Pinna diciamo ne ha prese meglio altre. Rimessa laterale lunga per Forcina che si destreggia in mezzo a Sterbini. Forcina si lascia un po' cadere infatti non protesta per nulla con il direttore di gara. La rimessa laterale giocata per Blandino. Blandino duetta con Pucci. Pucci la palla alta per Pino che conclude. Finisce fuori il pallone. E ora il Cotton non ci sta a chiudere 0-0. La palla indietro ancora per Blandino. Uno dei più attivi il numero 6. Punta l'avversario Blandino. Va sul sinistro. La mette poi per Giordano. Giordano mette in mezzo il pallone. Giordano era un tiro grosso che esce. C'è un tocco. Calcio d'angolo per il Cotton Club. Piro dalla destra con il destro ad uscire. Il pallone verso Zamperini. La parata e poi la rete del vantaggio del Cotton Club con Rocco Giordano. 1-0 Cotton. Rete di fondamentale importanza per la squadra di Pinna. Cotton che spingeva da più di qualche minuto a calcio d'angolo dal quale è salito come una furia a Zamperini. Ha staccato imperioso su tutti. Ottima risposta di De Pry che poi si è infuriato con Angelè che sul secondo palo ha lasciato che Rocco Giordano convertisse in rete. L'1-0 che tanto cercava il Cotton adesso cambia la partita. Deve cercare ancora più sinceramente il gol l'Eurobet Palermo che adesso non può sicuramente permettersi di perdere questi tre punti che aveva difeso così in maniera arcigna. Era nell'aria il gol del Cotton Club. Tre occasioni consecutive per la squadra di Pinna. Alla fine con il destro Giordano, lui che è sinistro, sta risolvendo per il momento il match. Non ci sta però l'Eurobet che prova ad attaccare. Poi Amico spazza via il pallone verso Forcina che lotta. Mette a terra il pallone da per Giordano che può mettere in mezzo, non c'è nessuno. Attende i compagni, poi Carboni lo mura. La rimessa laterale però per l'Eurobet Palermo giocata verso Andrea Eusepi. Si affidano a lui i giocatori di Cencetti e Eusepi rimediano la rimessa laterale. Sempre nella stessa zona. La gioca Carboni lunga verso Angelè che tocca di testa. C'è una spinta di Amico secondo il direttore di gara e si riparte. Quindi da un calcio di punizione per l'Eurobet Palermo. Prestazione non abbastanza sottolineata, quella di Amico che ha davvero giocato molto bene. Non mi ricordo anche se sia stato cambiato da Mr. Pinna ma nel caso lo è stato soltanto per pochissimi minuti. Davvero ottima prova del numero 44. E Eusepi provava ad impostare, c'è però Forcina che torna. E qui c'è un calcio di punizione e un giallo. Per Federico Marzella che del... A Forcina. Era evidente il fallo in questa circostanza. Michele si riparte quindi con un calcio di punizione per il Cotton che può respirare. Amico sul punto di battuta. Apre a destra per Piro. Piro perde il pallone. Pucci lo riconquista da sempre a Piro. Che di nuovo lo riperde. Ma Zapperini da nuovamente sulla destra. Per Pucci. Piro si impegna. Pucci gli lancia il pallone addosso. Poi Andrea Eusepi non riesce a metterlo in terra. E allora Blandino. Santarelli. Lancia lungo di Santarelli. Stacca Forcina. Mette a dare il pallone e si gira. Forcina poi conclude. Carboni lo mura. Pucci. Gioca per Forcina. Piro si impegna Angelè ma non riceve il pallone. È un po' di tempo che Angelè non riesce a giocare con tranquillità la sfera. Amico il lancio a lungo per Piro che prova a mettere in mezzo. Quindi la conclusione tentata da parte di Pucci che più che concludere cercava di non incorrere in qualche errore difensivo. Dueta ancora bene Pucci sulla destra però va a mettere in mezzo il pallone. Chiuso da Andrea Angelè. Piro. Con la suola Piro. Bellissima giocata per Pucci. Ma Tubani fa buona guardia. Adesso ha cambiato fascia di competenza. Tubani che prova a sua volta. Con la suola saltare l'avversario. Non riesce. Troppo basso l'Eurobet che non riesce a guadagnare campo in nessun modo. Rilancio lungo. È preda di Nolano che la mette via. Il Cotton Club si sta tenendo alto. Perché è la squadra con dei sinistri cali di tensione. Il vantaggio del Cotton non è mai certo. Perciò un solo guardia di scarto. Solo l'1-0 non tranquillizza. Né Pina né Giuseppucci. Ricordiamo da 3-1 a 5-3 col blitz euro. Non appena due giornate fa. È una tutt'altra partita però. Perché da quella partita forse il Cotton ha imparato la lezione. Infatti prova ad attaccare. Con Forcina che non riesce a tenere in gioco il pallone. La rimessa laterale per l'Eurobet che sembra anche in parte aver finito le energie. Si affida ancora ad Andrea Giuseppi che apre malamente per Andrea Angeliè che deve andare lì indietro. Butta via il pallone l'Eurobet Palermo. Rimane alto il Cotton. Pucci Sterbini Perde il pallone Sterbini. Nolano conclude. C'è una deviazione. C'è il calcio d'angolo in favore del Cotton Club da sinistra. Andranno probabilmente a due ettari e anche a guadagnare un po' di secondi preziosi. Piro e Nolano Carboni e Angeliè e scusate Tubani infatti vanno subito a disturbare la manovra del Cotton Club. Si stacca Nolano Piro mette in mezzo colpo di testa da parte di Zapperini che si era staccato nuovamente ripartanza dell'Eurobet affidata a Tubani Tubani provo ad andare c'è una trattenuta e un cartellino giallo sacrosanto di Forcina. Questa era l'azione di Tubani Spicina. Memory della doppietta all'andata decidono di bloccarlo ben prima della metà campo. Calcio di punizione per l'Eurobet Palermo Andrea Eusepi la scodella cercando in mezzo qualcuno fa scorrere con molta esperienza amico Santarelli gli chiama Mia non c'era nessuno dietro di lui e quindi il numero 44 permette al numero 1 di metterla in terra di guadagnare secondi di lanciare lungo in direzione di Forcina che prova a giocare di prima verso Nolano la palla poi viene messa in mezzo il colpo di testa tentato da Angelè non riesce ci arriva quindi Blandino poi Angelè la gioca a terra Blandino mostruosa partita mostruoso secondo tempo poi il suo alter ego dal punto di vista del ruolo ovvero Nolano mette a terra il pallone la dà sulla destra per Piro che prova a saltare l'avversario non riesce conquista la rimessa laterale per il Cotton Club che prova ad attaccare adesso con Pucci chiede l'1-2 Pucci va via mette in mezzo il pallone ci arriva Carboni che poi col sinistro non lancia la sfera e la spara addosso lo stesso Pucci guadagna una buona rimessa dal fondo per l'Eurobet Sterbini lungo il lancio di Sterbini Angelè isolato e non riesce ad avere la meglio di Zamperini Amico il lancio lungo trova Nolano Blandino chiama il pallone Nolano taglia il campo da destra per Pucci pallaccia di Pucci anzi no stop incredibile di Piro in aria di rigore sembrava un pallone lungo e perso Piro ne trasforma un calcio d'angolo sempre con il suo destro è pronto Piro che scivola quasi sul terreno di gioco il numero 7 mette in mezzo a cercare Zamperini che stacca la palla rimane lì per Piro che potrebbe andare all'indietro Anzinova in aria di rigore sempre per Zamperini ci mette la testa ancora l'Eurobet poi Nolano sulla sinistra trova le gambe di Marcella e la rimessa laterale per il Cotton Club Forcina ultimi scampoli di match uno più recupero al termine e credo che il recupero sarà abbastanza importante viste le discussioni in occasione del time out quando eravamo sullo 0-0 tra Eurobet e Palermo e Cotton Club ora siamo sull'1-0 con la rete di Rocco Giordano Forcina prova a guadagnare tempo salta a due avversari il fallo evidente di Carboni in mezzo a due Forcina si è guadagnato questo ottimo calcio di punizione sul quale va Nolano tre i minuti di recupero voluti dai direttori di gara in due sul pallone Piro e Nolano ho visto Piro però particolarmente ispirato a giustare il pallone andrà probabilmente lui ma occhio anche a Blandino che è nei pressi dell'area di rigore è anche smarcato si stacca Nolano che non ha marcatura anche lui Piro prova la concursione a giro palla che esce Michele prima dei minuto finale due parole per Blandino abbiamo potuto di vedere il migliore in campo si diciamo che se la gioca insieme a Rocco Giordano ma ha fatto un secondo tempo di assoluta qualità e i minuti in panchina di Nolano stanno lì a testimoniarlo è rimasto in panchina il marcatore principale del Cotton Club che appunto è Nolano insieme alle Fevre questo qualcosa vorrà dire Eusepi prova la conclusione colpisce Blandino poi Forcina e Sterbini lottano si continua a giocare con Blandino che gioca la palla verso Nolano ancora Blandino riconquista il pallone lo addomestica lo gioca sulla destra trova solamente Andrea Angelè che la mette in mezzo per Tubani che prova a partire Tubani c'è forse un fallo poi un bel contrasto maschio tra Carboni e Nolano che è lontano il pallone di Nolano e si becca il giallo dal direttore di gara forse poteva risparmiarselo Nolano ricordiamo il prossimo match del Cotton Club sarà davvero difficile e lì vanno spesi i cartellini assolutamente in casa Salcirieci contro il football litte Roma Nord partita molto interessante all'andata adesso però ci vogliamo gli ultimi minuti di Cotton Eurobet tutti oltre la linea del pallone tranne Sterbini che la gioca per Eusepi che può metterla in mezzo Eusepi la mette in mezzo forte e tesa il colpo di testa addirittura del portiere dell'Eurobet la palla esce dal campo e si riparte dalla rimessa dal fondo per il Cotton Club con Santarelli che con pazienza la vorrebbe mettere in terra anzi no il lancio lunghissimo di Santarelli torna in porta il portiere Sterbini ennesimo intervento quindi Tubani la tocca Pucci ci arriva la gioca per Piro che potrebbe mettere in mezzo il pallone lo fa in direzione di Forcina Sterbini in anticipo riconquista la palla ma c'è il calcio di punizione a favore per l'Eurobet e Palermo con Sterbini che la gioca ancora per Andrea Eusepi si affidano a lui per un lancio o un tiro è un lancio di Eusepi a cercare Angela il colpo di testa liberare di Pucci poi ci mette la testa Piro la palla rimane sempre lì con Blandino che dà a Forcina Forcina viene chiuso da Tubani è fallo del numero 7 che rischia tantissimo adesso andando a protestare ormai manca davvero poco pochi secondi amico sul pallone Carboni chiede che venga battuto in fretta questa punizione sta maturando una vittoria fondamentale per il campionato del Cotton Club Nolano chiuso altro calcio di punizione e arriva qui il triplice fischio dei direttori di gara vittoria incredibile e fondamentale del Cotton Club che vince di misura 1-0 sul campo dell'Eurobet Palermo e così possiamo dirlo si freggia di una vittoria molto importante nel girone di ritorno vittoria che il Cotton ha cercato forse più dell'Eurobet Palermo specie nel secondo tempo dal punto di vista della classifica si crea netto ormai il solco tra le prime tre e tutti gli altri che si crea netto ormai che si crea netto ormai